Sali Pacco, sali Pacco, la star basso! Sali, sali, sali! Calma, calma! Oh! Calma, calma! Guarda, 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 guarda! Aspetta, aspetta! Ardu! Guarda, guarda! Ardu, vatta! Guarda, guarda! Dai con me! Dai con me! Raga, uff! Salva, salva, fatta! Oh! Andri, non c'è di pro, eh! Fischio! Signore! Eh! Signore! Oh! No, no, no! Bafferda c'è di nuovo! Oh! Ho! 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 Non l'ha neanche toccato! Oh! No, no! Vado! Vado giustiche! Cia questo! Vediamoci su! Cia questo! hold a男. Cia понятно. Adesso? Ma cosa hai visto? Che è entrato nello stomaco. Ma cosa Mariotti? Ma vada a questo. Stai, stai, stai. Perché fanno contro?